più zeri bim 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 fumo carino semino brother nel mio pario comunque social boom vedi che non hai capito un cazzo non ti ho augurato che ti scoppiano i social ti ho augurato che scoppi tu magari allora social boom questa è l'ultima volta che parlo di te perché ti assicuro io credo che tu non sia una persona che si merita di avere della notorietà anzi non credo neanche che tu sia una persona sinceramente credo che tu sia uno che debba avere il coraggio di prendere un curriculum e portarlo da qualche parte a cercarsi un lavoro vero detto questo se ci sono delle collaborazioni nei miei pezzi sai perché ci sono delle collaborazioni? perché i miei colleghi mi rispettano fratello perché sono bravo a fare quello che faccio e quindi con me ci collaborano ma tolto questo comunque ci sono delle hit che hanno fatto 40 milioni di ascolti e non ci sono featuring sopra quindi chiudi quella bocca cercati un lavoro e chiudi quella bocca stupido youtuber comunque da Fitlazza è tutto fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo in un prossimo video Liria allo studio liria allo studio liria allo studio